Salve a tutte ragazzi e ragazzi oggi finalmente rifaccio l'estrazione vi chiedo scusa se non l'ho fatta ma sono stata occupata quindi non ho potuto fare il video dell'estrazione e la rifaccio perchè appunto già avevo scritto sotto all'altra estrazione che non mi aveva contattato la ragazza che aveva vinto ed è per questo che ora rifacciamo l'estrazione e il vincitore è Mickey Kawai Kawaii vabbè allora hai tre giorni di tempo per contattarmi per inviarmi tutte le tue informazioni personali e per piacere fai il video di apertura del mio pacco complimenti e ciao